Buon lunedì 27 giugno, ancora un brano del Vangelo che ci invita al cammino, cammino di conversione, cammino di sequela del messaggio di salvezza di Gesù ed è un Gesù in movimento costante, non si ferma, va sempre oltre e questo ci invita a fare, non definisce un luogo stanziale nel quale si realizza la sua missione, la sua missione è in movimento costante allora come oggi. Dal Vangelo secondo Matteo in quel tempo vedendo la folla attorno a sé Gesù ordinò di passare all'altra riva. Qui c'è un primo passaggio che va decisamente controcorrente rispetto alla nostra cultura, quando c'è la folla noi tendiamo a sostare, fermarci, abbiamo raggiunto il risultato, cosa vogliamo di più, i leader politici costantemente costruiscono il consenso, vogliono una folla intorno a sé e si fermano, bloccano il cammino, impediscono quella naturale evoluzione della vita che contrassegna l'essenza stessa della vita, ma Gesù ordina di andare all'altra riva anche se c'è la folla. Allora uno scriva si avvicinò e gli disse, maestro ti seguirò ovunque tu vada. Gli rispose Gesù, le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo ero nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Gesù intuisce che nell'affermazione di quello scriva c'è la disponibilità sì di seguirlo, ma immagina probabilmente un luogo, una meta, uno scopo, un obiettivo. E Gesù attraverso l'uso di una metafora. Ricorda che le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo il loro nido, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. È un esplicito invito a procedere costantemente oltre senza mai costruire una dimora che fisserebbe il cammino, definirebbe un luogo nel quale poniamo l'obiettivo della nostra esistenza. E un altro dei suoi discepoli gli disse, signore permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli rispose, seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Ma c'è naturalmente irriverenza nei confronti del gesto di pietà di seppellire il padre. Ma c'è un invito costante, anche in questo caso attraverso una metafora, di non porre limiti al cammino. Qualunque cosa accada noi siamo chiamati costantemente a camminare, a procedere oltre. Bella o brutta che sia quella cosa, che sia un'occasione di pietà o di festa. La nostra esistenza deve essere costantemente in un cammino, come ci invita a fare Gesù. È un cammino nel quale seguiamo il procedere di Gesù. Seguiamo la sua parola, il suo invito alla conversione. Implicitamente si afferma che non vi è regno mondano che possa accogliere il regno di Dio. Il regno di Dio è profondamente incarnato nella nostra esistenza, ma è un regno in movimento. I regni mondani sono quelli che costruiscono intorno a sé a difese per impedire il superamento di se stessi. La vita è costante del superamento e il regno di Dio è cammino, procedere, innovare. Tensione verso la conversione del cuore, della mente. È un cammino che genera passione nella vita e che permette di superare tutti i momenti, ripeto, belli o brutti che siano. A volte quelli brutti ci conducono in uno stato di depressione, di inerzia. Quelli belli ci entusiasmano e vorremmo che non passassero mai e quindi ci fermiamo. Ma Gesù ci ricorda sempre e comunque che la traccia del suo messaggio porta inevitabilmente al cammino senza mai definire una timora di arrivo. Buona giornata a tutti.